La finanza in soldoni è un podcast di educazione e informazione finanziaria a cura di Massimo Famularo. Bentornati alla rubrica che vi parla di economia. In modo semplice vi propone idee e suggerimenti per una gestione razionale della finanza personale. Il World Economic Forum è iniziato a Davos per il 53esimo anno consecutivo e si è aperto con un sondaggio tra gli economisti che ha visto il 56% dei partecipanti prevedere un indebolimento dell'economia mondiale e il 43% invece non prevedere cambiamenti rispetto allo scorso anno con un'unica voce fuori dal coro data da un membro dell'ABC tedesco, austriaco chiedo scusa, il quale sostanzialmente ha evidenziato che potrebbero addirittura slittare al prossimo anno i tagli attesi nei tagli di interesse. Mentre appare quasi scontato che la Federal Reserve lascerà invariati i tassi all'unione di gennaio alcuni segnali in merito all'inflazione americana lasciano intendere che le aspettative di una riduzione da verificarsi già nel mese di marzo, come abbiamo detto negli episodi precedenti, potrebbero essere troppo ottimistiche. Veniamo invece all'approvazione del nuovo ETF che investe in Bitcoin da parte della SEC. Gli ETF sono strumenti di risparmio gestito basati sul meccanismo dell'investimento collettivo per il quale i fondi di diversi investitori, anche piccoli, vengono messi insieme per acquistare attività finanziarie come azioni, obbligazioni o materie prime, eccetera. Questo meccanismo consente anche ai risparmiatori che dispongono di somme limitate di poter investire in portafogli ampiamente diversificati, ma anche di accedere alla scommessa su sostanti altamente speculativi come strumenti derivati, materie prime e, dalla scorsa settimana negli Stati Uniti, anche in Bitcoin. Questo può essere considerato una sorta di sdoganamento o legittimazione delle criptovalute nei confronti del grande pubblico? In linea con quanto illustrato anche in episodi precedenti di questa pubblica, la risposta è negativa ed è confermata dal fatto che Gary Gensler, presidente della commissione che ha dato il via libera allo strumento, ha voluto specificare che questa autorizzazione non equivale a un endorsement dell'attività sottostante, sottolineando anzi come, citazione letterale, gli investitori dovrebbero essere consapevoli che l'attività sottostante è altamente speculativa e volatile. Tra le sue casistiche d'uso ci sono anche l'attività illecita, il riciclaggio di denaro sporco, le sanzioni, il ransomware e così via, fine della citazione. Inoltre, diciamo, non in risposta a una domanda ma, diciamo, facendosi in qualche modo promotore di questa affermazione, lo stesso Gensler ha voluto esprimersi sulla possibilità che questo bitcoin venga considerato una riserva di valore, affermando, citazione letterale, che si tratta di una riserva di valore speculativo, viene utilizzato come mezzo di pagamento, ci compriamo il caffè, non proprio, l'unico meccanismo di pagamento per il quale viene utilizzato in senso primario è l'attività illecita, fine della citazione letterale. Dunque, quali sono le implicazioni dell'introduzione di questo strumento? Prima di rispondere alla domanda, vi ricordo che potete scrivere l'indirizzo email mfamularoblog.com per spunti, suggerimenti o richieste su come indirizzare questa rubrica, ma anche per ricorrere al servizio di Financial Coach, un'attività di formazione personalizzata per gli ascoltatori del podcast con compenso concordato in base alle esigenze individuali. Tornando all'approvazione del nuovo ETF, quello che rileva sapere, evitando gli eccessi, si dia di chi è troppo ottimista, di chi è eccessivamente scettivo, è che si tratta di una modalità aggiuntiva per prendere posizioni su un asset speculativo e dunque, al netto del fatto che diventa più semplice per una platea più vasta di investitori prendere posizioni su questa criptovaluta, restano invariate le argomentazioni espresse negli episodi precedenti, di cui si è parlato sia di bitcoin che di criptovalute più in generale. Ma quindi come spiegare lo strumento che è stato autorizzato in parole semplici? L'ETF su bitcoin è una scommessa, un asset altamente speculativo, dal quale un risparmiatore ordinario, non particolarmente propenso al rischio, dovrebbe tenersi lontano o al più al quale si potrebbe dedicare un'acuta molto piccola di un portafoglio altramente diversificato. Possiamo formulare delle previsioni sull'andamento di questa attività. Qualsiasi tentativo di prevedere l'evoluzione del bitcoin costituisce un esercizio soggetto ad un'elevata aleatorietà, al pari di quello che si verifica per tutte le attività fortemente speculative. Quello che si può dire in questa fase è che, se è più semplice investire in una data attività sottostante, è plausibile che venga indirizzato verso questo tipo di impiego una quantità maggiore di fondi rispetto al passato. L'ipotesi di questo nuovo afflusso potrebbe essere avvalorata anche da un contesto generale di incertezze ed elevata volatilità, che tipicamente favorisce le attività che si ritiene siano meno correlate rispetto alle asset class tradizionali come azioni e obbligazioni, anche se in passato la correlazione negativa è venuta meno in diverse fasi. Dunque una maggiore domanda, affrontati in offerta limitata, potrebbe dare luogo al rialzo del prezzo. Ricordiamo anche che esiste un meccanismo tecnico, l'holding, che strutturalmente serve a limitare la quantità di bitcoin in circolazione e a renderle una risorsa scarsa. A fronte di questa possibile crescita, di cui nessuno può prevedere l'inizio e men che meno la fine, è possibile che si verifichi poi un crollo repentino. Già osservato in precedenza, che costituisce l'epilogo logico di qualsiasi fenomeno di bolla speculativa. Allora la presenza di questo ETF non cambia nulla. Secondo un editoriale di Wall Street Journal, la presenza di un ETF potrebbe amplificare l'entità dei movimenti di prezzo, sia in direzione positiva che negativa. Allo stesso modo in cui la presenza di un numero più grande di scommettitori fa salire il prezzo di misura maggiore nelle fasi di entusiasmo, nel momento in cui questa spinta si esaurisce la chiusura delle posizioni da parte degli stessi soggetti porta un crollo repentino. Che riassunto fare per chi ascolta questa rubrica? L'ETF su bitcoin non costituisce in alcun modo una forma di legittimazione di quella forma di investimento, al punto che il Presidente della Commissione che l'ha approvato ci ha tenuto a specificare in modo chiaro commentando la decisione. Asset speculativi di questo tipo comportano rischi molto elevati, spesso al di là della comprensione dei risparmettori dinari, che al limite potrebbero prenderli in considerazione per una quota molto piccola al loro portafoglio e solo nella misura in cui dispongono di competenze sufficienti per valutare il potenziale di rendimento associato ai rischi affrontati. La lezione della storia da tenere a mente in questi casi riguarda la velocità con cui le bolle speculative si gonfiano e poi scoppiano. Se acquistate un oggetto per la mera prospettiva di poterlo rivendere a qualcuno disposto a pagare di più, dovete sapere che prima o poi potrebbero non esserci acquirenti a cui passare il cerino proverbiale e il prezzo dell'attività, che si tratti di un tulipano o di un bitcoin, finirà per crollare inesorabilmente. La finanza in soldoni è un progetto multicanale che include questo podcast, una newsletter nella quale trovate i testi di tutte le puntate, iscrivetevi per rimanere aggiornati. E una serie di video sul canale YouTube di Massimo Famularo, oltre a un libro con lo stesso nome. Se i contenuti vi piacciono, segnalate i vostri contatti e dite di iscriversi alla newsletter e al canale YouTube. Vi segnalo anche alla rivista la rubrica Maniflash, che faccio sul canale YouTube dell'Associazione Liberi Oltre le Illusioni. Arrivederci!